Ciao a tutti, cambia percezione, cambierà il tuo mondo. In questo video voglio spiegarti come puoi cambiare percezione per far cambiare il tuo mondo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare, diciamo così, con gli abbonamenti in base a delle live, dare un sostegno al canale, con l'abbonamento seminario online potrai partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ma adesso veniamo a cambia percezione, cambierà il tuo mondo. Allora, un modo per ristrutturare la realtà molto potente consiste nel considerare una situazione, un'esperienza o un giudizio, diciamo, riferendosi a un modello di mondo differente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo spostare la nostra attenzione anziché restando nei nostri panni, mettendoci nei panni dell'altra persona, cioè sviluppando quella che in pianelle si chiama seconda posizione, che sarebbe poi la capacità di sviluppare l'empatia. Noi possiamo percepire il mondo essendo centrati su noi stessi, ma possiamo anche percepire il mondo centrandosi sugli altri. Questo cambio, diciamo, di prospettiva, questo cambio di posizione percettiva ci fa capire che noi possiamo vivere le cose in modo molto diverso. Cambiare la prospettiva ci fa apparire, diciamo, come se fossimo l'altro individuo. Quindi vedremo il mondo con i suoi occhi, percepiremo il mondo con i suoi occhi, ci mettiamo nei suoi panni. E questo è fondamentalmente molto importante perché associandoci a lui potremmo capire esattamente quello che prova, potremmo capire esattamente quelle che sono le sue emozioni e possiamo svedere e anche imparare, anche a fare delle cose nuove. Il modello del mondo è proprio il vedere il mondo. Quindi noi possiamo, attraverso questo processo, nell'assumere la seconda posizione, percepire le cose in modo completamente diverso. Questo ci fa capire che noi possiamo sviluppare empatia. La mappa di fatto non è il territorio, ognuno ha la propria mappa del mondo. Mettersi nella seconda posizione di percezione consiste a cercare di capire qual è la mappa del mondo dell'altra persona e rendersi conto che le persone fanno le scelte migliori compatibilmente con le possibilità che hanno e compatibilmente con il loro modello di mondo. Quindi le mappe che rendono disponibili il maggior numero di scelte sono quelle più funzionali. Identificate una situazione che coinvolge un'altra persona, nella quale ad esempio l'altra persona ha fatto delle cose che voi non siete riusciti a fare. Quindi questo è un altro modo per imparare, diciamo così. È una cosa che i bambini fanno naturalmente, imparare per emulazione. Quindi questa seconda posizione di percezione ci dà diversi vantaggi. Ci dà la possibilità di imparare per emulazione. Quindi l'altra persona, la sua insaputa diventa un mentore. Ma ci dà anche la possibilità di capire il punto di vista dell'altra persona. Quindi la sua insaputa, l'altra persona diventa anche un altro insegnante, diventa un nostro insegnante. Quindi questa è, diciamo, è fondamentale. Quando le cose capitano in questo modo è fondamentale. Quando questo è fondamentale ci permetterà di ottenere veramente dei risultati. Mettendosi nei panni dell'altra persona, mettendosi nei panni dell'altra persona, questo è molto e molto importante. Perché ci sono dei fatti fondamentali. E questi fatti fondamentali, quali sono? che imparando e capendo come pensa l'altra persona, potremmo essere molto più persuasivi. Essere molto più persuasivi, questo è fondamentale. Perché se siamo molto persuasivi, riusciamo, diciamo, a ottenere dei risultati molto, molto vantaggiosi. Potremmo dire le parole giuste che ci permetteranno di raggiungere dei risultati veramente straordinari nella seduzione, nelle relazioni sentimentali affittive. Quindi provate a mettervi nei panni delle altre persone, non possono vedere il mondo con i loro occhi e vedrete che vi si aprirà un mondo, tra virgolette, vi si aprirà un mondo nuovo. Che neanche la vostra preferita immaginazione potrà farvi capire quanto è utile fare questo che vi sto dicendo in questo momento. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere l'abbonamento in base per dare un sostegno al canale e l'abbonamento Seminar Online per partecipare ai miei seminari online. Ciao a tutti!